Adesso parliamo della cura invece, quindi della curatela, noi abbiamo oggi, e del curatore, perché abbiamo evidenziato e numerato quelle che potrebbero essere situazioni che portano a una possibile limitazione della capacità di agire, però abbiamo visto, penso che abbiate capito tutti come, tale limitazione potesse comportare in alcuni casi la nomina di un tutore, in altri invece la nomina di un curatore, quindi ci pronunciamo adesso anche su quelle che sono le differenze tra la cura e la tutela nel diritto romano. Oggigiorno curatore e tutore si differenziano soprattutto con riguardo appunto alla capacità di agire del soggetto tutelato, infatti tutore, diciamo, la figura di tutore interviene nei casi in cui il soggetto tutelato è soggetto ad una totale assenza di capacità di agire, è il caso appunto del tutore del minore, cioè del minorenno che comunque non ha i genitori, o del tutore dell'interdetto, quindi in quei casi di infermità così gravi che portano ad una procedura dichiarativa dell'interdizione. Il curatore invece è una figura che interviene sempre, diciamo, per aiutare, diciamo, tutelato, o meglio sarebbe dire curato, ad amministrare il suo patrimonio, però nei casi in cui appunto il soggetto è comunque, ha subito comunque solo una limitazione nella capacità di agire, ma è in grado di compiere qualche atto autonomamente, senza appunto, senza diciamo subire un pregiudizio a causa della sua incapacità a provvedere il proprio interesse. Quindi diciamo che il curatore, ad esempio, oggigiorno è una figura che interviene nel caso del minorenno emancipato, il minorenno emancipato comunque è maggiore dei 16 anni, anche se non può compiere atti di straordinaria amministrazione, può compiere comunque atti di ordinaria amministrazione in maniera autonoma e talvolta può anche essere preposto all'amministrazione di attività. Mentre il curatore, nei casi, diciamo, di infermità interviene quando questa infermità non è così grave da portare all'interdizione, ma porta comunque ad una procedura eventualmente dichiarativa della semplice inabilitazione. E quindi anche in questi casi abbiamo soggetti che a seconda di quelle che possono essere poi le disposizioni del giudice, che esamina appunto la situazione del curato, è comunque in grado di compiere qualche atto. Poi oggigiorno abbiamo anche la figura dell'amministrazione di sostegno che comunque apre un panorama comunque più complesso che sarebbe degno di essere approfondito, ma non non è questa la sede perché stiamo studiando il diritto romano. Quindi, all'epoca del diritto romano, quali erano le principali differenze tra tutore e curatore invece? Innanzitutto, potete ricordarvi assolutamente che la cura, a differenza della tutela, era priva di un carattere potestativo. Quindi diciamo che l'oggetto della cura era solo ed esclusivamente l'amministrazione del patrimonio, chiaramente del curato. e quindi priva appunto di un carattere potestativo. Come abbiamo detto e visto, la tutela da un certo momento in avanti diventa appunto un istituto che è assunto un carattere protettivo nei confronti di tutelato, quindi chiaramente carattere potestativo si poneva in quest'ottica. Mentre invece, con riguardo alle situazioni che invece imponevano la nomina del curatore, diciamo che l'oggetto della cura era proprio solo l'amministrazione del patrimonio perché tutto ciò interveniva anche non solo la protezione del soggetto che non era in grado di provvedere da sé ai propri interessi, ma soprattutto anche per tutelare, cioè tutela, per proteggere quel che potrebbe essere l'interesse delle persone vicine, quindi dei parenti del soggetto che richiedeva appunto la nomina del curatore, la cui situazione richiede la nomina del curatore. Infatti parliamo delle situazioni, cioè mentre la tutela, quindi nel diritto umano, mentre la tutela era, si rendeva necessaria per gli impuberi, comunque su Iuris, ad esempio cui fosse morto il pater, e per le donne, quindi ragioni diciamo di età e di sesso che portavano una limitazione di capacità di agire, che però imponeva la nomina di un tutore, perché tali soggetti erano incapaci di provvedere i propri interessi, ma soprattutto perché nel caso dell'impuberi, non avendo raggiunto la pubertà, non si era in presenza di un soggetto comunque dotato di capacità di agire, nel caso della donna, per ragioni appunto limitative anche della capacità giuridica, non si era in presenza di un soggetto, comunque di un pater famiglia, si è in grado appunto di amministrare i propri beni. E quindi, se non che la differenza principale avevamo visto sul piano della durata della tutela era che nell'impuberi, appunto la tutela era destinata a venire meno al raggiungimento della pubertà, per la donna invece la tutela era perpetua. Le situazioni invece che imponevano la nomina di un curatore erano le altre, quelle risidie, cioè quelle relative ad un'infermità, se non che per la maggior parte delle infermità, che potevano avvisarsi, nel diritto romano si doveva valutare caso per caso, in ordine alla possibilità di annullare un negozio giuridico assunto dall'infermo e quindi alla strega di come oggi ad esempio si potrebbe valutare delle situazioni di incapacità naturale, quindi transitore, incapacità di intendere di volere. Mentre c'erano due situazioni specifiche che invece richiedevano la nomina del curatore ed erano quella del Furiosus e del Prodigo, quindi Furiosus e Prodigo richiedevano la nomina del curatore, ma anche da un certo momento in avanti, già dopo l'età classica e poi, diciamo la figura dei minori si diventa i cinque anni, quindi c'era l'obbligo del curatore per i minori si diventa i cinque anni, ma questo solo da un'età successiva, inizialmente no, infatti i minori si diventa i cinque anni ne abbiamo già parlato, abbiamo detto che c'era un'alex pretoria del 191 d.C. che ha stabilito una protezione nei confronti del minore si diventa i cinque anni sul piano dell'assunzione dei negozi giuridici, disponendo una pena pecuniare per chi avesse reggirato il minore, ma un'alex pretoria che consentiva comunque anche al minore di vantare un eccezio che consentiva di paralizzare l'azione comunque di chi lo avesse reggirato se lo convocava in giudizio per ottenere la prestazione. Questo però agiva, ecco, però va bene riprendere questo argomento perché ci siamo anche dimenticati di dire una cosa, diciamo adesso, che comunque l'atto del minore si diventa i cinque anni rimaneva sempre valido sul piano del gius civile perché comunque era un soggetto pubre, quindi capace di agire, mentre veniva poi invalidato appunto grazie a questo dell'ex pretoria sul piano del diritto pretorio. Ma da un certo momento in avanti si richiese la nomina del curatore per tutti i minori di 25 anni, avvicinandoci appunto ad un panorama più simile a quello odierno dove appunto i minori di 18 anni non hanno capacità di agire. All'epoca era 25, poi comunque c'è stato ad esempio un periodo precedente a questo, dove l'età era fissata ad esempio ai 21 anni, ma tutto ciò non riguarda il diritto romano. Diciamo che nel diritto romano i minori di 25 anni comunque avevano capacità di agire ma da un certo momento in avanti, cioè furono comunque tutelati in qualità di soggetti che a causa della giovane età magari potrebbero essere maggiormente soggetti ad eventuali raggiri, ma da un certo momento in avanti si rese obbligatoria la nomina del curatore anche per questi soggetti, quindi venne meno diciamo anche per i minori di 25 anni la capacità di agire. Però le altre situazioni che richiedevano la nomina del curatore erano pertanto le altre infermità riconosciute come più grave che erano appunto la pazzia pura, quindi la cura del furiosus e la cura del prodigo. Quindi casi dove vedete la mala gestione comunque dei soggetti stessi avrebbe potuto comunque comportare anche, penalizzare comunque anche i familiari. E pertanto la cura anziché assumere questo carattere protestativo interviene innanzitutto su dei soggetti che sono comunque puberi e che pertanto non richiedono un'assistenza sul piano appunto della protezione del soggetto stesso e in secondo luogo nei confronti dei soggetti che appunto soprattutto nel caso del prodigo possono anche compromettere i diritti comunque dei familiari. Pertanto oggetto della cura a differenza della tutela, oltre ad essere privato del carattere protestativo, oggetto della cura è proprio solo e esclusivamente l'amministrazione del patrimonio. Altra differenza nel caso del furiosus è che il furiosus ad esempio non poteva compiere alcun atto validamente, mentre invece serviva comunque il consenso del curatore. Nel caso dell'impubere tutelato invece abbiamo visto come l'impubere poteva compiere atti giuridici ma non poteva compierli, diciamo che questi atti sarebbero rimasti invalidi se non fosse appunto se non fosse intervenuto quel provvedimento formale appunto basato sulla autoritas del tutore quindi il preventivo assenso appunto del tutore alla validità dell'atto. Mentre invece nel caso del furiosus, punto furiosus non poteva compiere nessun atto validamente. Viceversa anche il prodigo non poteva compiere atti, cioè anche in questo caso serviva al consenso del curatore ma diciamo che il prodigo oltretutto era sottoposto al vero e proprio procedimento di interdizione e quindi una volta dichiarato questo soggetto interdetto solo appunto il consenso del curatore poteva dar luogo appunto degli atti validi. Quindi il curatore amministrava il suo patrimonio e in pratica diciamo che veniva a meno soprattutto lo jus commerci per il prodigo, per cui il prodigo essendo un dissipatore delle risorse dei beni pertanto paterni e dei beni abiti una volta dichiarato appunto prodigo e quindi interdetto non ha più diciamo diritto né di obbligarsi né di compiere atti e punti di disposizione senza il consenso comunque del curatore e nemmeno comunque di compiere alcun atto riferibile allo jus commerci che invece deve essere compiuto direttamente dal curatore e quindi viene meno appunto lo jus commerci per il prodigo. Diciamo che con riguardo alla cura ci siamo espressi anche in maniera abbastanza approfondita ricordati appunto le differenze tra cura e tela e tutela nel diritto romano basate principalmente sul fatto che vengono meno, che viene meno il carattere comunque potestativo che l'oggetto e la cura è solo esclusivamente l'amministrazione e il patrimonio.